Fumo e paura in banca a causa di un principio di incendio. È avvenuto stamani nella filiale di Ospedaletto Euganeo della Banca di Credito Cooperativo Euganea, dove si è verificato un malfunzionamento del gruppo di continuità. Il guasto ha causato una gran quantità di fumo che ha immediatamente invaso i locali della Banca di Via Roma, spaventando non poco operatori e clienti. Sul posto sono accorsi i vigi del fuoco del distaccamento di Este che hanno subito domato il principio di incendio e rimesso in sicurezza l'area. Data la situazione in paese, sono arrivate anche i carabinieri della compagnia a Testina. L'emergenza è rientrata poco dopo.